OBS ha ben deciso di non far sentire il microfono Lui è qui, lui da qua si è buttato Lui da qui si è buttato di sotto Pazzo, pazzissimo Quindi quello che faremo noi sarà scendere giù per il sentiero Io non so come... Cioè lui si è buttato da qua nel video Non so com'è, boh Ok Ok, devo arrivare fino a queste rocce E poi mi sa scendere giù, giusto? Fammi rivedere Sì Lui è sceso giù qui E tipo, eccolo, sì lo vedo, lo vedo Vedo il legnetto con le due corde Ok, via allora Eccoci qua Voglio risparmiare l'ossigeno finché non arrivo qui Eccoci qua, via Via Oddio, di nuovo un'altra pozza? Oh no Ah, arrivati Fra, devi star su Guarda che bordello di gocce Ok, allora Ah, questa è la cosa Vediamo un po' Cioè, un ponte? No, non capisco Aspetta un attimo Transporto di legno What? In che senso? Vabbò Va bene Giusto proprio per averli tutti quanti Allora, detto questo Vorrei salvare in realtà E uscire Perché vorrei vedere un attimino effettivamente Cosa ci manca da prendere Tipo le armi, le cose Allora, innanzitutto Già che siamo qui Dovrei vedere tutte le entrate Quindi adesso scendiamo E andiamo verso di qua E vediamo quell'entrata lì Dall'accampamento E vediamo se l'abbiamo fatta Oh, calmissimo Quelle ha le molotov in mano Mi sono preso un colpo Faccio un attimo un save Esco un attimo dal gioco Vado sulla mappa E mi cerco tutte le entrate Delle grotte Allora, a me serve Vedere le entrate alle caverne Questo mi serve Perfetto Alcune le tolgo Perché so che già le ho fatte Allora Togliamo queste che abbiamo già fatte Poi Questa se non sbaglio Anche già fatta Questa sicuramente l'ho fatta prima Questa sì Eh, poi adesso le altre Le dobbiamo vedere Adesso le faccio Vado all'entrata Di tutte le grotte E vedo quali ho fatto E quali non ho fatto Ecco Questa Non l'ho mai segnata Non l'ho mai segnata Però va bene Entriamo Mi sono fermata qui Perché c'è un'uscita Evidentemente qua Però questo non l'ho proprio visto Boh Chissà perché non l'ho visto Tipico delle torce Allora Se vado di qua Continuo Invece no Io devo andare Cioè io ero scesa qua sotto E l'ho risalita Non capisco Guarda quanta cazzo di roba Ecco Qua ho trovato Oh Questo era il pezzettino Perfetto Eh no Qui non c'era mai stata Ah no dai Ci sono solo Solo scatoloni E cose Guarda quanta dinamite Oh mio dio Non ho mai visto Così tanto dinamite assieme Raga Queste cose non le prendo Perché non voglio Eccola Questa Lasciamo darla raccolta Dov'è Dov'è me la Eccola qua Questa è quella del video Eh la katana la sapevo Che l'ho vista da qualche video Ma non è in questa caverna Questo è torso Ecco Questo ci manca Quindi la katana È In questa caverna In realtà ci mancano solo queste La katana Il torso E E l'altra leg Buona Ah qui Bella madonna Cos'è sto co Adesso è solo uno What Cos'è adesso questo Fortune Mi viene proprio Da andare a vedere cos'è Può essere questa Sì È proprio questa Via No Cioè Se non ho preso questo Vuol dire che non ci sono stata Dai Ok Disegni di Timmy Oh Io che so cosa c'è dietro A queste immagini Oh l'altro Niente l'altro Vabbè Erano delle croci se non sbaglio Quelli ho presi assieme Non me le ho fatti vedere tutte e due Oh Un altro passeggero Un altro ancora Ma guarda Quante persone Eh Ma questi Opera d'arte lui Lui invece come l'hanno ridotto Vabbè Ah eccola la katana Quindi mi state dicendo Che è sott'acqua Possibile che ci sia Della roba sott'acqua No Ah no Cioè era qui Vabbè io non ho parole Raga Cioè io ho camminato Guardando dritto Praticamente Vabbè Che ridere Yeee Ah Non lo posso combinare Yeee Bambolino Ah mi sa che era la caverna Dell'abisso Che non avevo finito di esplorare Lol Ho finito tutto Yeee 41 su 41 No Vabbè raga Se vai a trovare gli ultimi due No è impossibile trovare gli ultimi due Raga Vediamo i nomi di costoro Tewart S E Fox D Ah dici che nella mappa Li posso trovare tramite numero Se è così tanta roba 2B 2B Questo è uno Ma com'è possibile 2B è near Che vuol dire near 2B è qua Ma ci sono già state mille volte qui Per prendere torso E l'altra è 5C Dai ma è nella stessa caverna Che culo almeno questo Dai Ma basta con queste chiese Allora io lo piazzo a terra Voglio vedere quanto è grande E se è fattibile In teoria uno è questo 2B Ok Eccolo Finito 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 Corori Beh LOL È grande Ma ci sta nel mio spiazzo Allora Via No vabbè Comodissimo Raga Ma se io adesso Annullo Il Il progetto Tutti i tronchi Mi cadono a terra Domanda Perché lo vorrei mettere a frontale In realtà Ma si dai è presto Vai Vediamo quante me Allora Ne ho messe 38 Me ne da 1 Rido eh 1 No me ne date Più di 1 2 Bello La No vabbè Ma ci sono anche I cosi per sedere Ma che caruccia Ma che bella Tu mi devi spiegarmi Come cazzo si fanno Sti effigi Perché non lo capisco Davvero Cioè guarda B Io le effigi qui Non le vedo Ti mi in piedi Cos'è essa cosa Ti mi in piedi Ti mi seduto No 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 Che cazzo fai No scherzo Non volevo piazzarlo Ti mi in piedi Ti mi seduto Moglie Moglie Oh mio dio Cioè talmente tanto sei qui Che impazzisci E ti costruisci questi Praticamente Volevo fare Un porta armatura E metterci l'armatura Da mostro Vediamo Finalmente posso vedermi Come ero vestita così Oh mio dio Sì effettivamente È un po' inquietante Figo Bene Direi che lo lascio qui Ye Ehi E mo Effettivamente Cosa devo aspettare adesso No ma adesso davvero Cioè posso essere salvato È fino all'infinito Il gioco È rip Ah ok Quindi basta Abbiamo fatto Abbiamo fatto I due finali Buona Bene raga Allora È stato bello È stata una bella avventura Devo dire E niente raga Io vi saluto Buonanotte a tutti Ciao ciao Ciao